Uno sfregio alla natura mondiale, così le associazioni ambientaliste Forum H2O, Stazione Ornitologica Abruzzese e Nuovo Senso Civico hanno commentato i lavori di manutenzione e asfaltatura di un tratto di strada sterrata che attraversa i prati d'Angro fino alla fonte della Ceretta, a Villa Valle Longa, nel cuore dell'area protetta, in uno dei luoghi simbolo dell'Orso Bruno Marsicano, tra l'altro sito della Rete Natura 2000. Lavori che potrebbero mettere a rischio i progetti comunitari di tutela dell'Orso e anche i lupi. Augusto De Sanctis. Una strada sterrata che doveva essere peraltro chiusa al traffico e dove invece adesso, secondo i dati ufficiali, adesso invece ci stanno spendendo mezzo milione di euro per asfaltarla, deturpando un paesaggio unico e irripetibile, un patrimonio mondiale, adesso c'è un lungo nastro d'asfalto che corre su questa vecchia strada sterrata che poteva rimanere tale e che appunto doveva essere chiusa al traffico permettendo l'accesso a piedi come si dovrebbe fare in un parco nazionale in maniera rispettosa per l'ambiente, per la fauna e anche per la qualità stessa della visita. Tant'è vero che questa nostra denuncia, queste immagini che stanno circolando sul web, stanno suscitando l'indignazione unanime di centinaia di migliaia di persone. Questo scempio, ha aggiunto De Sanctis, deve essere fermato e riparato. I cittadini indignati reclamano il blocco immediato dei lavori su tutta la strada, il ripristino della strada sterrata è la condanna di chi ha autorizzato i lavori pagandoli con fondi pubblici quando la strada andava chiusa per legge. Intanto partono le prime denunce. Noi stiamo mandando esposti su esposti, crediamo che l'ente parco nazionale d'Abruzzo abbia gravi responsabilità, in particolare il suo direttore, ne abbiamo chiesto le dimissioni perché ha rilasciato un parere favorevole all'intervento e solo adesso, all'ultimo secondo e peraltro a lavori praticamente conclusi, ha emesso un'ordinanza per un piccolissimo tratto, ma il resto sta andando avanti. Quindi è assolutamente importante fermare i lavori e poi ripristinare questo ambiente spettacolare che è stato deturpato da questa strada. Grazie. 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 Grazie.